In questa puntata, Difensore Civico, Comitato Puccini, racconti di Federico Fubiani. Difensore Civico, eletta Lucia Annibali, alla quarta votazione, ha ottenuto 23 voti contro i due di Antonia Fiordelisi. La prima commissione, prima che la elezione del Difensore Civico regionale venisse fatta dall'Aula del Consiglio, ha avuto modo di acquisire tutta una serie di curriculum relative a candidature altrettanto spendibili. Ci sono state molte autocandidature da parte di persone che avevano i requisiti per poter ottenere questo incarico, ma altresì sono state fatte designazioni da parte dei gruppi. La prima commissione ha poi elaborato una rosa di nomi che sono stati poi presentati all'Aula al momento della votazione. Un nome indicato dal gruppo misto, dalla consigliera Tozzi, un nome indicato dalla maggioranza, quindi da Italia Vive e dal Partito Democratico, e un nome che invece è stata espressione del Movimento 5 Stelle, che è l'attuale Difensore Civico della regione Basilicata. Ritirata la candidatura proposta dalla consigliera Tozzi in Aula, la scelta quindi si è fondata sui due nominativi e alla fine è prevalso il nome di Lucia Annibali, espressione della maggioranza, un curriculum qualificato anche come membro della Commissione Giustizia per un ruolo così delicato come quello del Difensore Civico regionale. Consentitemi innanzitutto di fare un grande in bocca al lupo a Lucia Annibali. Le sue competenze, la sua sensibilità, la sua storia personale, penso possano rappresentare il profilo giusto per dare risposte ai cittadini che segnaleranno disservizi rispetto a quelle che sono i servizi messi in campo dalla regione. Il ruolo del Difensore Civico è un ruolo molto importante perché è davvero il luogo in cui le istanze dei cittadini trovano una risposta anche a disservizi che purtroppo possono accadere. Io penso che Lucia Annibali anche per la sua storia personale possa rappresentare la figura giusta e possa svolgere con serietà, impegno e competenza questo ruolo così delicato. Credo che sia fatto una cosa bella per la Toscana. Lucia Annibali è una donna che ha un valore altissimo a livello umano, a livello etico. La sua storia lo dimostra, la sua battaglia, la sua elemento identitario come difesa di chi ovviamente si impegnerà per difendere i diritti dei cittadini toscani. A lei è un compito straordinario quello di essere il garante di tutti i toscani. Un impegno importante. Il Difensore Civico è l'organismo di garanzia più importante della regione toscana. Per me è anche un senso di responsabilità straordinaria essere colui che ha avanzato la proposta di Lucia. Ringrazio i colleghi del Partito Democratico che hanno accolto questa proposta. Abbiamo dimostrato che in questi mesi volevamo dare alla Toscana una donna, prima di tutto. Volevamo dare una donna di altissimo valore qualitativo, umano, per quello che ha vissuto nella sua vita. Credo che la Toscana oggi esca più forte. Ne escono più forti i diritti delle donne, degli uomini, dei ragazzi, delle persone, degli ultimi. Credo che Lucia sarà una persona che si dedicherà a tempo pieno a questa esperienza. La Toscana può andare orgogliosa del proprio Difensore Civico. E io personalmente, come capogruppo di Tel Aviv, di una forza politica che si è assunto a questa onere di responsabilità, credo di essere veramente soddisfatto nel coronamento di un percorso che denota anche coraggio, tenacia e anche, a mio avviso, lungimirazza. Ma intanto occorre dire che questa sera abbiamo dato alla Toscana un difensore civico che ritengo sia una professionista molto adeguata, che farà sicuramente bene. Una persona competente dal punto di vista giuridico, perché è un avvocato, ha fatto parte della Commissione Giustizia della Camera, è stata nominata dal Presidente della Repubblica Cavaliere del nostro Paese, ma anche una figura, una donna, che è l'emblema della difesa dei diritti civili, del contrasto alla violenza, visto quello che lei purtroppo ha dovuto subire. Quindi credo che sia una figura adeguata, una proposta che legittimamente ha fatto la maggioranza e che, a mio avviso, meritava anche un consenso più vasto, perché questo avrebbe corrisposto alla qualità della proposta che lei rappresenta. Noi abbiamo voluto dare un segnale, cioè che la scelta del difensore civico della Toscana dovrebbe essere scelta fra persone che hanno specifiche competenze nel campo della difesa civica. Per questo abbiamo letto tutti i curricula arrivati con autocandidature in seguito all'apertura dell'avviso pubblico e abbiamo scelto il profilo che ci sembrava più adatto. In effetti ha già un'esperienza, dal 2014 è difensore civico della Basilicata, la dottoressa Antonia Fiordelisi e adesso lo è in regime di prorogazio. Quindi noi abbiamo cercato di togliere questa logica della spartizione di poltrone dalla nomina del difensore civico. Sicuramente una figura apicale, una figura di garanzia è stata messa sul banco per cercare di dare consistenza e tenuta a una maggioranza che in questa vicenda ha dimostrato sicuramente di sapersi ricompattare. Tutto questo però a scapito di quello che dovrebbe essere la normale dialettica tra maggioranza e opposizione, soprattutto nel momento in cui si parla di figure che dovrebbero caratterizzarsi per neutralità, imparzialità e quindi svolgere un ruolo di interesse a tutto campo, quindi scevolo da qualsiasi, anche solo riferimento ad una storia politica. Questo è quello che avremmo spiccato e questo è quello che invece non è accaduto. Nel lungo dibattito in aula, tra l'altro io ho sottolineato anche come abbiamo perso un'occasione anche per cercare di rivedere in qualche modo quali legislatori, quella che è la stessa figura diciamo del difensore civico e della funzione che oggi dovrebbe svolgere appunto quelli che sono gli organi di garanzia della Regione. Quindi non abbiamo neanche saputo arrivare a questa scadenza riorganizzando complessivamente quello che è un istituto fondamentale. Ecco perché di fatto noi non abbiamo partecipato con gli altri colleghi del centro-destra a questa elezione nulla diciamo eccependo sulla figura per carità della dottoressa Annibali con il massimo rispetto per la persona e per la sua storia. Però di certo non si possono fare battaglie politiche e come dire barattare incarichi per far tenere una maggioranza regionale che anche in passato e anche su questa vicenda ha dimostrato di avere comunque dei grossi motivi di crisi. Una valutazione sicuramente negativa sul modus operandi che ha attuato la maggioranza nella nomina della figura apicale perché ricordiamo che il difensore civico è di garanzia per tutti i cittadini toscani senza colore politico, senza appartenenza politica che si rivolgono a una figura che dovrebbe essere di garanzia e che auspichiamo diventi di garanzia. Nel caso di Sidi con le pubbliche amministrazioni e comunque con privati che però gestiscono attività di pubblica utilità. Purtroppo sul nome di massima espressione di tutto il Consiglio regionale o almeno quello che noi aspichiamo c'è stato un colpo da parte della maggioranza che ha deciso di votare, di votarsi il nome dell'ex onorevole, la dottoressa Annibali senza condividere questo nome con le opposizioni, senza fare un percorso partecipativo valutando i curriculum, valutando le esperienze, su colui che colei in questo caso dovrà rappresentare tutti i cittadini toscani. Auspichiamo che faccia un lavoro veramente super partes anche se purtroppo il modus operandi di questa maggioranza ci fa pensare il contrario. Hanno utilizzato la principale figura di garanzia di tutti i cittadini toscani ovvero il difensore civico, la figura che rappresenta tutti i cittadini e le cittadine della Toscana di fronte alle istituzioni qualora ci siano controversie. Quindi la figura di massima garanzia per la città, per la regione è stata utilizzata dal Partito Democratico e da Italia Viva per mantenere in piedi la maggioranza. Io penso sia stata scritta una delle pagine più tristi di questa legislatura sicuramente una pagina di politica che ha esposto la regione toscana alla berlina in tutta Italia la regione toscana per questa scelta, per questo accordicchio fatto da PD e Italia Viva per mantenere in piedi la maggioranza utilizzando il difensore civico è finita sulle copertine di tutti i giornali nazionali. La Toscana è stata derisa da Bolzano a Canicattì e dispiace, anche se all'opposizione, far parte di questa pagina di storia. È una nomina di alto spessore e ottimo profilo io devo dire che l'ho condivisa con molta convinzione il difensore civico deve essere una persona super partes che riesce a essere il filtro fra le istanze dei cittadini e quello che sono gli apparati, gli organi politici e amministrativi della regione quindi una donna che, avvocato, ha vissuto sulla propria pelle questioni drammatiche come quella della violenza verso le donne ma che da questo ne ha tratto elemento di forza per esercitare il suo loro da parlamentare e oggi è la persona giusta per interpretare al meglio il difensore civico nella regione siamo all'inizio degli anni 70 che per prima fra le regioni neoelette a statuto ordinario si dette il regolamento e la figura del difensore civico. Il presidente della regione toscana Eugenio Gianni risponde all'interrogazione di Massimiliano Baldini della Lega sulle dimissioni del tesoriere del Comitato Nazionale per le celebrazioni pucciniane Io ho avanzato un'interrogazione precisa che però è stata depositata il 5 di dicembre cioè in un momento in cui si era dimesso il tesoriere del Comitato Nazionale per le celebrazioni di Puccini facendo e avanzando delle contestazioni estremamente precise e piuttosto severe in confronto della conduzione del Comitato da parte del Presidente e in un momento in cui c'era difficoltà nella riunione del Comitato e c'era anche voci che ci fossero ulteriori dimissioni. In questi giorni, in queste settimane, poche settimane è successo di tutto cioè sostanzialmente oggi siamo andati a prendere atto di una situazione che noi in qualche modo avevamo verificato che potesse oggettivamente succedere e infatti ad oggi che cosa è successo? Che le dimissioni in atto sono state molteplici sia nel Comitato che nel Comitato Scientifico di particolare peso il Comitato non si è riunito a più riprese non riuscendo ad approvare il bilancio quindi non riuscendo a poter spendere quelle risorse che erano assegnate per quanto riguarda l'anno 2022 ma che vedono risorse estremamente importanti 9 milioni e mezzo in vista di un appuntamento che è di portata mondiale oggettivamente e non solo i rumors che anche oggi abbiamo è che le dimissioni potrebbero non fermarsi ancora e che la situazione è di completo stallo. Chiedo che si metta attenzione sul Comitato Nazionale sono molto preoccupata siamo tutti molto preoccupati per come si stanno succedendo i fatti all'interno del Comitato c'è stata oggi un'interrogazione anche dell'opposizione a dimostrazione che non è più soltanto un fatto di colore politico o un tema politico ma è proprio un tema di essere all'altezza delle celebrazioni e dell'opportunità che queste celebrazioni rappresentano per la Toscana, per il Paese e per la provincia di Lucca. Ad oggi non c'è una progettualità non c'è una visione ci sono le dimissioni di un tesoriere e quindi chiediamo che venga posta la massima attenzione e che il Comitato comincia a lavorare in maniera totalmente diversa. Il Comitato, e aggiungo anche, essendo della provincia di Lucca anche la fondazione Puccini che deve essere protagonista il Presidente purtroppo è lo stesso apprezzo molto la posizione della Lega che si è espressa prendendo le distanze dalla gestione del Comitato mi auguro che il Governo andrà sulla stessa linea. Veronesi è il Presidente in carica del Comitato per il centenario pucciniano sta lavorando si sono riuniti anche ieri al Comitato peraltro quindi le informazioni che abbiamo affrontato oggi sostanzialmente al di là del modo molto più che tranquillo con cui sono stati posti anche dal Presidente Gianni non ci preoccupano sappiamo che Veronesi farà un ottimo lavoro che il Comitato porterà a termine i suoi lavori ma soprattutto lo diciamo non soltanto da amanti di Puccini ma da amanti della musica e lo dico anche come Lucchese e lo dico anche come ex Presidente di un altro Comitato centenario che era quello di Carlo Cassola che è sepolto a Monte Carlo che dobbiamo lasciare lavorare sostanzialmente questi organismi senza troppe ingerenze il Professor Veronesi è conosciuto e stimato da chi lo conosce chiaramente e quindi anche da noi e ci aspettiamo sicuramente che per il 2024 saremo nelle condizioni di omaggiare il Grande Maestro Il libro Sogni, Pensieri, Parole e Segni di Federico Fubiani con le illustrazioni di Niccolò Storai è stato presentato nel Media Center Sassoli a Firenze Stamani raccontiamo una storia bellissima una storia che tiene insieme la capacità di saper coinvolgere di sensibilizzare tiene insieme la capacità di saper raccontare di Federico Fubiani uno giovane scrittore talentuoso che mette a disposizione il suo impegno e il suo lavoro verso chi soffre di più lo fa insieme a una fondazione a cui sarà devoluto il ricavato della vendita di questo libro Sogni, Pensieri, Parole e Segni e dà il senso di come si possono tenere insieme la cultura con la solidarietà in particolare oggi siamo qua per parlare di questo qui che sto stringendo fra le mani che è una raccolta di racconti brevi che abbiamo pubblicato insieme a Cure to Children a scopo benefico poiché i proventi della vendita di questa piccola autologia vanno al progetto per la ricerca sul neuroblastoma che è un terribile semplice infantile il cosiddetto GNN Global Neuroblastoma Network è un terribile semplice